Situazione meteo di oggi, mercoledì 16 maggio, su Palermo e provincia. Cielo poco nuvoloso, venti forti da ponente, mare molto mosso, temperature comprese tra 16 e 24 gradi. Per domani, giovedì 17 maggio, si prevede bel tempo, venti con intensità di 33 km orari, mari molto mossi, temperature pressoché invariate.